Porto Reggio a canestro come Manu Ginopili, come Cinopili E ritrovo con piacere il direttore generale del basketball a mezza Bruno Bertucci all'interno di questa stagione inenarrabile, fantastica, ancora un successo Continua la corsa delle zone altissime di classifica Partiamo dal commento a questa sfida contro i giovani del Sant'Antico Che gara è stata? Queste sono le classiche partite che se le affronti male come noi abbiamo affrontato male Caserta, New Basket e rende, cioè non con la giusta mentalità, corri il rischio Invece oggi abbiamo dal primo minuto comunque la squadra si vedeva che era ben dentro la partita Quindi non ti dico che è stata una vittoria facile, tranquilla perché loro sono una buona squadra in grande crescita Però diciamo l'obiettivo raggiunto di arrivare alla partita di mercoledì senza infortunati, con una vittoria che dà comunque morale Abbiamo sfatato il tabù d'attamella Quando veniamo noi si scavia sempre Anche se con Trinitano non ce l'avamo Ma questo è un altro discorso Tornando al discorso Anche un altro tabù Sì infatti Ringraziamo Fortano Serrano che potrà entrare amichevolmente al Palaspati La prova del 9 Sì infatti si abbiamo fatto Io l'avevo detto all'inizio che serviva il sorriso tant'attimo Ma comunque va dato merito ai ragazzi di Gocci Vinci Guerra Non aver mai mottato fino alla fine Bello alla fine secondo me è significativo anche in chiave futura L'avversario è una squadra serbatoio alla Serie B Poi avete una seconda squadra tra virgolette Il quintetto era Giampa, Giampa, Malbaso Conti, Mishimarra C'erano Out, Nicolò, Ielo, Idone eccetera eccetera Si sta asseminando il futuro alla mezza? No, sicuramente il fine settimana sarebbe stato perfetto Se ieri i ragazzi di Lender 17 avessero compiuto l'impresa Sfiorata perché comunque abbiamo giocato appunto contro una grandissima squadra giovanile Qual è la Svincolati o Svincolatini in Lazio? Svincolati in Lazio, sì sì Una gran bella squadra Però i nostri ragazzi hanno dimostrato grandissima crescita Soprattutto alla luce delle grandissime difficoltà di allenamento che loro hanno Se loro potessero allenarsi in maniera costante Sarebbe un gruppo sicuramente già molto più avanti di come ora Però piano piano speriamo che le cose si assestino anche alla mezza Ma la cittadina mezza ha capito cosa stanno combinando i tuoi ragazzi? Questa impresa sportiva che io ho il piacere di raccontare domenicalmente La cittadina mezza è una città un po' amorfa sotto certi punti di vista Molto piccola nella mentalità sportiva Ha sempre vissuto di calcio e di grandi emozioni Cioè se tu davi la grande partita veniva Però nella costanza c'è bisogno sempre di stimolarli Noi stiamo cercando di stimolarli in tutti i modi Cercando di far capire che comunque è un periodo talmente difficile Che stare vicino a chi porta il nome di la mezza in giro per varie regioni italiane In maniera dignitosa penso Penso sia interesse di tutti Dell'amministrazione, della città Si deve parlare bene e positivamente di la mezza Noi lo facciamo fare Dove andiamo andiamo Abbiamo comunque complimenti A prescindere se vinciamo o perdiamo Per la nostra sportività E questo penso che sia il messaggio che dobbiamo dare A livello giornalistico io sono in crisi Perché non riesco a decodificare un vero MVP di questa sera Ho cinque candidati tra Spasojevic e Terreni Che è bellissima la sfida d'ottocanestro Col contendente E Rodrigo, Saghella, Riu, Tartamella Secondo te? Beh io lo darei al capitano Non peraltro solo per il Per la fine Per la fine Perché diciamo In campo si sono equivalzi Tutti sono un rendimento abbastanza elevato tutti quanti Però la cerimonia Chiamiamola così finale Dell'annuncio delle nozze Bellissimo Bellissimo Del gaugio Sì ma che poi È un gaugio lametino Quindi è uno È uno più Più lametino Dei lametino Lo possiamo dire Quindi No Rodrigo penso sia L'ideale giocatore di chiunque Chi lo conosce Lo apprezza E sa che tipo La gioia di Di vedere comunque La sua Il coronamento Penso il suo sogno d'amore Come una lametina dopo tanti anni Penso sia Il vero Il vero highlight Io sinceramente So che dietro C'è l'organizzazione Di coach Barilla Che pensa anche a queste cose Unico appunto Avrei fatto tutto Non sugli spalti Ma sulla sua mattonella Vicino al tiro libero Dove Avrà realizzato X canestri Ci fossero le tabelle Modelle NBA Con Le tabelle di tiro Sarebbe stato l'ideale Però purtroppo La carenza di impianti Non consentiva Di sporcare il campo Per la partita successiva Che già stavano Si ce l'ha ballato Assolutamente Bruno ma senti Progetti per il futuro Nel breve periodo Dove può arrivare Questa squadra? Perché adesso È chiaro che vi dovete salvare Io l'ho detto L'ho specificato E non ho detto una bugia No Assolutamente Ma adesso si balla C'è da ballare Si balla Allora Noi Penso Allora Ci sono organici Sicuramente più Più attrezzati Del nostro Lo continuo a dire Dal primo giorno E lo continuo a dire ora I risultati Dichiarano che In questo momento Ci sono quattro squadre Che sono al di sopra Delle altre Anche se ci sono altre squadre Come Salerno Benevento Che magari Incappano In giornate difficili Però anche lì Il livello è molto alto Però queste quattro squadre Tra cui noi Siamo lì Che ci stiamo giocando Le prime quattro posizioni A questo punto Noi ora Diciamo Siamo alla svolta Del campionato Nel senso che Avremo Quattro trasferte consecutive Perché dobbiamo fare Due Tre recuperi Con un calendario Molto Molto tosto Quattro trasferte In campania E là Ci giochiamo Ci giochiamo un po' Diciamo la griglia Playoff Poi quello che Quello che verrà Sarà tutto merito Dei ragazzi E del coach Noi faremo il possibile A questo punto Perché Si ottenga il massimo Cosa sia il massimo In questo momento Non lo so Potrà essere Un quarto di finale Come una finale Però sinceramente Sinceramente Ad oggi Non è facile Non è facile E poterlo dire Anche perché Ripeti Livello è molto Molto elevato Darà giocare ad Angri Mercoledì Per noi Sarà una prova La prova del fuoco Perché comunque Una squadra Molto forte Secondo me La più La più attrezzata Del campionato Non perdeva Un bel po' Con un grande allenatore Sinceramente Meritano la posizione Che hanno L'abbiamo visti qua Nella partita d'andata Che è stata Una partita bellissima Forse hanno anche Il miglior 5 Insieme a Terreni Questo lo possiamo dire Insomma Marcovic Aggiungo Terreni Perché Un Terreni così Forse Non se lo aspettava Nessuno Forse nemmeno lui Emanuele Se solo Si rendesse conto Delle sue Potenzialità Lo dico In maniera molto Non sarebbe La mezzia forse Perché Ha tutto per Per giocare In categorie superiori E quello che noi Stiamo cercando di fare Per tutti questi ragazzi Che sia un trampolino Di lancio Per le loro carriere La mezzia Per qualcuno Come lo dico Sarà una Metafinale Per altri Speriamo sia Il trampolino di lancio Per carriere Ad altissimi livelli Perché secondo me Ci sono tanti di questi ragazzi Che se lo meritano Ultima Ultima considerazione Perché ci tengo A farla con te Che insomma Analizzi Il basket mercato Ormai da tanti e tanti anni Il mercato avvetto Fino al 30 aprile Secondo me È un qualcosa Di irreale E di improponibile Solo che Probabilmente Avrai bloccato Un bel po' di chiamate Perché avrai ricevo Richieste per i tuoi ragazzi Immagino Però non è un po' strano Che adesso Magari Una tua competitors Arrivata Settima Ottava Con mettere dentro Giocatori fuori categoria Guarda Se dovessimo parlare di questo È una norma Che secondo me Andava modificata L'anno scorso Aveva un senso Perché abbiamo cominciato A giocare a marzo Quindi aveva senso Tenere il mercato aperto Se ne saranno dimenticati Quest'anno Sinceramente No Perché comunque È solo mettere Non idee gestistiche In campo Ma chi c'ha denaro In questo momento Può ribaltare Può ribaltare La stagione Noi Il basso mercato Non ci interessa In entrata Soprattutto Non ci è interessato In uscita Da novembre A questa parte Perché il telefono È bloccato Da novembre Sulle richieste Però Le norme sono queste È inutile lamentarsi Lo sapevamo Avremo una settimana Dal 23 Poi dopo Dopo l'ultima giornata Secondo me In cui Si vedrà Chi Chi è in difficoltà E che vuole Puntare la del roster Chi invece vuole Ribaltare la situazione Chi Chi invece crede In quello che ha fatto Nell'estate scorsa E continuerà Come fare Dire una cosa Io ho fatto i complimenti A Sant'Antimo Per la grandissima prestazione Perché dall'andata Li ho visti Di grande crescita Grande società Tutto Mi dispiace stigmatizzare Però l'atteggiamento Di un loro giocatore Non faccio il nome Perché sinceramente Lo sa lui Chi è stato Perché durante la partita Se ne possono dare Prendere Ricevere Insultarsi Tutto quello che vuoi Però quando scatta L'insulto razzista Sinceramente È una cosa che Mi infastidisce Dal punto di vista personale È stato insultato Dal punto di vista Del colore della pelle È un nostro giocatore È inutile fare Fare il nome Perché lo sa benissimo Chi è stato Lo sanno tutti Faccio di nuovi complimenti A Sant'Antimo Però Sarebbe opportuno Che spiegassero Che nel 2022 Ancora Usare questi termini In un campo di pallacanestro Con tutto quello Che sta succedendo nel mondo Penso sia Sittimo di ignoranza E io credo che la risposta Con quel pallacanestro successivo Dell'atleta in questione Del basketball La mezza Sia la risposta più bella Grazie per questa presentazione E grazie Bruno Per la tua intervista Grazie Portoreggio a canestro Come Manu Ginobili Come Cinobili